Musica Le drammatiche immagini proiettate in mondo visione dell'improvviso malore che ha colpito il calciatore della Danimarca, Christian Eriksen, hanno riportato più che mai di stretta attualità l'importanza della formazione e della prevenzione in situazioni di primo soccorso emergenziale. Una vicenda che ha avuto il lieto fine con Eriksen che già nel momento del trasporto in Barella era tornato cosciente, ma in altre circostanze ha assunto un epilogo drammatico, sia nello sport professionistico che dilettantistico. E riavvolgendo il nastro all'aprile 2004, una vicenda pressoché analoga vide protagonista, suo malgrado, l'allora 29enne difensore del Gualdo, Andrea Fiumana, oggi delegato a soccalciatori, durante una delle ultime partite di campionato di C2 in Romagna sul campo del Bellaria. Successe che dopo circa un quarto d'ora, venti minuti di gioco, in un duello aereo con l'allora centramanti del Bellaria Gabriellini, veni colpito alla tempia. Ricordo bene quell'episodio, nonostante non ci fu una caduta o un taglio, perché comunque ebbi subito la percezione di una botta diversa dal solito. Però la verità è che quando sei là in mezzo, quando dai tutto per il tuo lavoro, finché non vedi nulla di grave nell'immediatezza, ci dai poca poca rilevanza. Anch'io in quel caso continuai a giocare, finì il primo tempo e poi nell'intervallo senti il malessere crescere in maniera importante. Mi resi perfettamente conto di non star bene, per un attimo cercai di reagire, di farmi forza da solo, togliendomi la maglia da gioco, la canottiera che indossavo e volevo assolutamente cercare di rinfrescarmi per riprendermi, però non riuscì neanche a arrivare sotto la doccia o per darmi una sciacquata alla faccia, perché feci una crisi epilettica con un arresto cardiocircolatorio e poi per fortuna veni soccorso immediatamente e lì devo ringraziare i dottori e gli operatori perché sono stati loro a salvarmi la vita insieme ai miei compagni che facevano forza per me. Vedendo anche le immagini dello stesso Ericsson mi fa tornare alla luce tutto quanto, perché io fino a un attimo prima di avere il malore ebbi appunto la lucidità tra virgolette di dire a chi mi stava di fianco guarda che mi sa che mi sento male, per cui io fino a un secondo prima ho un ricordo vivissimo del malessere che cresceva e appunto dell'allora allenatore dei portieri che avevo di fianco a me che riuscì a dirgli tra i denti guarda che non sto bene, si è spenta la luce e poi lì ci sono stati attimi dove chiaramente un po' la curiosità di farmi raccontare in un secondo momento, un po' per quello che è stato raccontato da chi ha vissuto quei momenti ti hanno risvegliato certe riflessioni, certe considerazioni poi io chiaramente vengo rianimato dagli operatori, come Ericsson ho la mascherina dell'ossigeno e in ambulanza ricordo perfettamente di dialogare e di rispondere alle domande con lucidità della dottoressa. In quella circostanza furono il medico Paolo Fiore e il massaggiatore Ugo Belardi a prestare l'immediato soccorso a Fiumana, un momentaneo arresto cardiocircolatorio dovuto ad una situazione traumatica che, dopo una lunga serie di esami e controlli ha consentito al difensore di tornare in campo poche settimane dopo e di giocare i play-off per la C1 persi in finale dai Biancorossi con la San Giovannese. Altri sportivi che hanno vissuto esperienze del genere hanno però dovuto a gioco forza smettere di esercitare la propria professione e la propria passione. Quello che ho vissuto io comunque in quel mese e mezzo di inattività è il pensiero è fisso, è un chiodo fisso, voglio tornare a giocare. La paura è che poi invece ci sia chi correttamente ti sbarra la strada perché non hai più i requisiti richiesti per andare in campo. Capisco Eriksen, lui oggi, ma io noto anche nella sua faccia una certa serenità, cioè sembra stare bene per davvero e me lo auguro. Sei talmente innamorato del tuo lavoro che ti porta a tutto. Spesso e volentieri noi giocatori pensiamo di avere davanti la partita della vita. Oggi mi sento però di dire che la partita della vita di fronte alla salute forse non esiste. Cioè al di là di quello che è successo a Eriksen, che è successo a me, durante la nostra attività pur di scendere in campo spesso e volentieri ci troviamo non costretti né obbligati, ma è proprio un senso del dovere, della passione e del piacere che ti porta a giocare partite anche quando non saresti nelle condizioni e quindi magari con antinfiammatori, con infiltrazioni. Queste alla lunga lasciano segni. Per cui la famosa partita della vita di fronte a non poter un domani stare con i figli e con la famiglia probabilmente non esiste. Quindi massima accuratezza nel fare certe riflessioni ed ecco la speranza è che si sia più attenzione, no, però che più giocatori siano in grado di operare anche in quelle situazioni è assolutamente utile e necessario. E proprio l'astocalciatori di cui Andrea è parte integrante segue da anni la tematica dell'emergenza di primo soccorso, concorsi, iniziative e progetti tesi a sensibilizzare i tesserati e dotarli di nuove competenze in una materia delicata quanto focale nello sport come in qualsivoglia ambito del vivere quotidiano. Parlando di queste cose mi viene in mente chiaramente Simon Kier, lì vicino a lui, ad Ericsson che cerca di rianimarlo, di non farli ingoiare la lingua. Io posso per il lavoro che svolgo oggi dire che c'è assoluta volontà di cercare di formare anche i giocatori in questo senso. Noi come asso calciatori nel ritiro che facciamo dei giocatori senza contratto a Coverciano nel periodo estivo, purtroppo in questi ultimi anni non si è potuto svolgere, all'interno però degli allenamenti e quindi del corso anche di allenatore, c'era proprio un corso di primo soccorso con dei test fatti chiaramente su dei manichini o comunque che mettevano in pratica appunto le situazioni di primo soccorso. È chiaro che sono tutte situazioni che nel momento che provi a farle con la testa fresca dalle indicazioni che ti lascia il corso ti riesco in un certo modo. Trovarsi poi nella situazione reale, live, a dover soccorrere, lì credo che subentrano molti altri fattori, cioè la lucidità di Kier. Mi viene in mente anche il povero Pier Mario Morosini quando i suoi compagni qualcuno si fiondò immediatamente addosso per cercare di non farli ingoiare. Sono tutte situazioni che vissute magari con più frequenza ti lasciano l'esperienza dovuta e la serenità dovuta in caso si verifichi. Farlo anche dopo aver svolto un corso comunque lascia la paura che poi quando sei là non è così semplice. Chiaro che oggi, come ha detto anche il presidente federale Gravina, come facciamo noi c'è assolutamente la volontà di cercare di formare anche in questo senso i giocatori. Gravina 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 Gravina